Sull'incremento dei casi covid nelle scuole parla l'esperto. Abbiamo ascoltato il dottor Ildo Polidoro, anatomo patologo, stavolta in qualità di coordinatore dell'emergenza covid del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Pescara. C'è stato un aumento dei contagi nelle scuole con classi di isolamento e positività riscontrate soprattutto in alcuni studenti. Perché questo? Sì, effettivamente noi assistiamo e stiamo assistendo a un diagnosi di maggior casi all'interno delle scuole. Questo è anche frutto del più attento monitoraggio dei soggetti in età scolare. Quindi è chiaro che aumentando il numero di soggetti sottoposti a tampone aumenta anche il numero di casi rilevati. Ma in base alla sua esperienza i casi all'interno delle scuole potrebbero aumentare nel corso del tempo? Effettivamente è una domanda molto difficile. Io non ho mai fatto sin dall'inizio della pandemia alcuna previsione. Quello che possiamo dire è che certamente seguirà quello che è il trend a livello comunitario. Cioè nella scuola, che è una comunità chiusa, chiaramente potrebbe seguire lo stesso andamento. Quindi potrebbe aumentare, potrebbe ridursi. Però chiaramente il discorso è questo. Massima attenzione, massima allerta e questa c'è. E possiamo anche dire un'altra cosa che chiaramente i contagi, io ritengo che molto difficilmente possono essere avvenuti all'interno della scuola in considerazione delle misure di sicurezza che sono state adottate, piuttosto che sono state portate all'interno della scuola o abbiamo trovato soggetti contagiati, magari altrove perché stabilire dove il contagio è avvenuto è molto difficile, e contagiati che frequentano la scuola. C'è poi un'altra domanda che abbiamo rivolto al dottor Polidoro. Perché se i casi di positività diminuiscono nel report quotidiano della regione, i decessi sembrano non decrescere? Anzi, ieri ne sono stati contati addirittura 17. Però diciamo pure che questo è un fenomeno che è sfalzato rispetto al contagio. E' chiaro che i decessi sono il risultato dei contagi di giorni precedenti, di quando la curva del contagio è aumentata, di quando il contagio ha interessato i soggetti più fragili, che poi dopo un periodo purtroppo di malattia vengono all'exitus. Quindi il dato risulta sfalsato e quindi relativamente deve essere preoccupante. Ci deve preoccupare chiaramente la curva dei contagi. Per questo, conclude il dottor Polidoro, bisogna continuare ad adottare le regole semplici e basilari per cercare di evitare i contagi.